Questa protesta è perché non ci ascoltano, è perché non ci danno niente per sopravvivere, ci stanno facendo chiudere in questa protesta. Se non protestiamo, qua chiudiamo tutti, poi non mangiate più niente voi. Adesso facciamo un giro perché dobbiamo farci sentire. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima